Io sono la madrina di The Fab Glasses e devo dire che insomma è già un po' di tempo che collaboriamo insieme, io sono innamorata completamente dei loro occhiali e quindi li seguo molto volentieri e li indosso molto volentieri. Ci sono tanti occhiali nuovi, innovativi, con montature leggere, colorate, divertenti, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi date un'occhiata in giro perché vi innamorerete anche voi.